Se volete acquistare i crediti fifa a basso prezzo andate su fifacoin.com e avete il 5% di sconto con il codice granas Cioè figa Bella vecchi tra i miei metodi qui sul canale granas e torniamoci oggi con il ROTUACI TUA Fantastico Nuovo nome, deciso adesso, sarà ROTUACI TUA Quindi ROTUACI TUA RATC Aspetta c'è un A in più No, è R-T-A-T-A-C-T Vabbè, fa niente ROTUACI TUA Come vedete, avevo detto che ho fatto un po' di compravendita nella fine del video scorso E l'ho fatta in effetti Sì Gioco di parole L'ho fatta in effetti L'ho fatta in effetti Fatta, fatta, fatta Fatetti Fatte, fatte, fatte Sette pepette Comunque ho comprato un po' di gente, allora Ho comprato un po' di gambi per i, per le, cioè ho comprato un persino d'essere lo cambio Poi ho comprato Garnetti se importa Poi ho comprato The Guzman C.O.C. Poi ho comprato Tider e Cigarini Ma non solo Perché ho comprato anche il grandissimo Romulo Do cazzo sta Eccolo Oh, mazza bestia Eh sì, adesso però sta riposando perché sta 83 Poi ho comprato In attacco ho comprato Di Natale e Dzeko Ho detto vabbè, voglio comprare Mantukic Poi ho visto che costa 20.000 quindi niente Poi ho comprato come riserve degli esterni Eder al posto di Liach e Honda al posto di Falke Che sono gli unici esterni che puoi comprare con meno di 1.000 Dopodiché, questi quattro che noi abbiamo sono gli unici che puoi comprare con meno di 1.000 Dopodiché tutti costano 5.000, 6.000 Ci arriveremo Salah neanche ci provo Allora, adesso quindi abbiamo la squadra completa Adesso quindi dobbiamo cominciare a mettere i soldi da parte Sì E compriamo Non so se comprare gabbiatini No, no Allora, gabbiatini ciocci che costa tipo 6.000, 7.000 Dicono tutti che è forte Oppure mettere i soldi da parte e comprarci un bel salah Quindi adesso la parola sta a voi Ci compriamo, ci mettiamo i soldi da parte per gabbiatini e per salah Chi conviene di più? Ditecelo voi I turbe Detto questo noi adesso cerchiamo questa cazzo di partita e andiamo a sfercare di vincere perché se noi saliamo di livello Ci danno pure i soldi Cazzo Che cazzo di squadra c'è? Ma perché insieme ho un bel Insigne Un bel David Luiz Un bel Kayon Un bel anche cosa Allora Come cazzo Adrigano Allora Gian Senna In mezzo No, non l'ho detto in mezzo No, perché? Che culo di merda Mamma che è Dzeko Ma che è Dzeko? È Dzeko eh Ma non sta manca a giocare a Dzeko Non sta giocando a Dzeko Porco dove è Dzeko questo? È Cigarini No, no Che cazzo è Non può essere Cigarini È onda, è onda È onda Sì, è che è così No, non è No, no, già se ne va Che cazzo Cigarini allora Ciga, è Ciga È il Cigli Iaic 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 Oh mio Dio 1-2 Un'altra volta Oh mio Dio No, di Natale Totò Prima che entra in porta Pezzo di merda Oh Mamma mia Però Ma vedo abbastanza difficile Dai Su primo tiro È incredibile È incredibile È un tiro Un gol Che bello Che dopo una traversa fantastica Prendi gol La palla per Tider Che non ci arriverà mai Porco dei falcialo Eeeh Già a filo Dai Tider Grande Eeeh Mi volevo Mi volevo Eeeh Digne Oh Oh Tira Boom Oh mio Dio Oh mio Dio Dove dai Ma stai gioca Ah ok Cigarini lunga Di Porca puttana Non ci credo Anna È un assedio Non riuscimo a segnare Perché Anna Significa Anna No vabbè Io me ne vado Io me ne vado Cioè Non è possibile Io me ne vado Dai ma che cazzo è Ma chi è Oh questo ha fatto Due tiri eh Due tiri Stiamo sempre noi davanti E lui tira Però sti buchi Non so possibile Do cazzo va Il portiere Do cazzo va Non ce ne voglio credere Allora c'è il portiere Sono la di dritti Sia il portiere Che la difesa Vabbè L'hai visto Oddio C'è rica stavo a gioca a noi Stavo a gioca su noi No vabbè dai No 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 porca Eh che cazzo Mazzacazioni Che stiamo a fare Comunque C'è stiamo a giocare Stavo bene Stavo a perdere Quella la cosa Mamma mia The Guzman Ecco raga The Guzman Lo consiglio Costa poco E' fortissimo The Guzman The Guzman The Guzman The Guzman Il mezzo Stavo a provare Oh 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 De Guzman Oh 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 Oddio Oddio Do cazzo va a messa Guarda Non sanno manco loro Che cazzo è successo No Boom Dai Andiamo a vince Non vince sta cazzo di partita No Eh no Si Oddio Rigore 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 Da porco Non mi può non dare rigore del genere Che è questo Vediamo la butta dentro No 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 Non 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 Ma Ti rendi conto come stanno a perdere Come stanno a perdere Ha fatto 4 qualcosì Oddio Sempre burtisso Mamma mia che fucilata Non ce voglio credere Comunque la partita più sfigata di questa Io non ce l'ho mai avuta C'è C'è Una partita sotto assedio Abbiamo perso 4 a 3 Però il gioco c'è E questa è la cosa importante Cazzo Potremmo vince Vabbè andiamo qua La prossima Ciao Vediamo un po' Abbiamo fatto un po' di Seconda partita si Abbiamo messo Dzeko Poi Eder Perché lì Aicin ce faceva più Tonelli Anzali Il problema sarà quando De Guzman starà male Ah vediamo Vabbè questi c'hanno già i squadroni Vabbè Strotman No ma guarda davanti C'è Salah Gervinio Cagliejon C'è lo sai vuol dire che Salah e Gervinio fanno come gli pare Ma perché Cagliejon atti Vabbè Contro i cacciottari Vabbè Palla al piede Salah E non ferma nessuno Palla Salah E si abbracciamo Il portiere che decide di rinviarla così Cioè Non avvia nessuno Oh santo Dio Vabbè Cioè Ma che è Che squadra è Chi è questo Il signo Ancora Honda 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 Scusate la concentrazione Ma Era da segnare Stavala Che cazzo Benzara Toga Una pesurda No ma io non ho Penso Donzara Giorgia Il mister di queste cose Di passaggi Mi sta proprio sul cazzo Su sto filo Comunque Oh Diego Tu 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 No Come fai Come fai a buttarla fuori La Ci Buono Buono La metto in mezzo Deve grosse Fan Fan culo Ma che cazzo Ma perché Già è andato a cazzo A me parla Tutti rincoglioniti I giocatori Su sto fifa Cioè No perché Se segna lui De testa Non ho Io sbrocco Ma 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 Già è andato a Già è andato a E vabbè dai E No Vabbè Oh il sole Pagano tutti E Reina Wow Fallo E Dai Vabbè Non è possibile Non è possibile Fine Il primo Tempo Oh Dio Guarda Ha fatto un gol Ha fatto un tiro Che è quello di testa Un tiro No ma riuscite Ha fatto due gol Però Con un tiro in porta Cioè Ma due gol Proprio ai limiti Dell'evoluto Proprio Cioè Regà Ditevi voi Che cazzo Succede Non lo so Vero Non è possibile Che prendi una traversata Oh È fuori gioco È fuori gioco È fuori gioco È fuori gioco Perché Ho fatto Una cosa Del genere Ma che gli ha detto Il cervello Voglio vedere Questa Pallata Non ci ha fatta vedere No ma che gli ha detto Il cervello Tu la fa bella figura Capito Che cosa sta succedendo Io ho dato una spallata Perché avevo perso palla Pie e tira Perché non prendiamo palla Sì vabbè Ciao Ma che cazzo È Ma dai Ma è bello È che io sapevo Che andavo là Mi sono fermato Ma non lo prendi Guarda Guarda C'è sta a mettere Questo Sei rotto De Guzman No no Guarda Era goal C'è Era goal Non ci voglio credere Ma è stato C'è un altro caso Che era goal Se De Guzman Non si era rotto Sì Perché era ribattuta C'è Proprio di tutto Succede Guarda 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 Non ci voglio credere no regà tocca comprare qualcuno forte questi non vedono proprio la porta a parte di Guzman nessuno vede la porta dentro sta squadra io non riesco a capire se ci hanno problemi non la passano più dove dici te non è che ci è stato inserito il manuale che non è possibile che non riescano a fare passaggi non lo so siamo riusciti a perdere tutte e due le partite vabbè supporto ai vecchi tram abbiamo fatto i neri però abbiamo perso quindi niente lasciamo i like ci vediamo al prossimo episodio del Rotten Division 1 come sempre